Scuole, coronavirus, scuola ed elezioni, il mondo dell'istruzione di fatto rimane in balia degli eventi. La data per il voto sembra essere stata individuata nel 20 di settembre a scuole, Covid permettendo già riaperte, e che per l'occasione richiuderanno per qualche giorno con tutto quel che ne consegue, quantomeno la sanificazione. L'opzione sono i palazzetti, ma anche su questa l'assessore all'istruzione di Vicenza è perplessa. Un'opzione valida, ma da quello che so io ci sono dei costi da sostenere e quindi che ci diano una risposta anche in questo senso, non può essere scaricato sui comuni perché comunque bisogna allestire dei seggi, bisogna allestire delle situazioni di sicurezza. E poi perché passata l'emergenza sanitaria non osare di più e dare qualche risposta? Restano da dare un sacco di risposte, per me è stato perso del tempo prezioso, non sono state messe le scuole neanche di provare a cominciare, dal mio punto di vista, dal momento che le scuole erano chiuse, qualche classe poteva ricominciare, tipo le classi finali, avendo uno stabile a disposizione e insegnanti a disposizione potevano cominciare come ho cominciato io. È chiaro che ci voleva il governo che desse via libera. Risposta a richieste dei genitori che chiedono il tempo pieno, il che significa mense, ma quel lavoro è più lungo. Per le mense io mi sto organizzando, sto già facendo degli incontri perché ricordo quando dico che si è perso tempo che non si può avere una ricetta uguale per tutte le scuole, bisogna fare un abito su misura e come i lavori sartoriali richiedono tempo e pazienza, anche la ricetta per ogni scuola va calata, va organizzata, va decisa assieme. Pertanto io auspico che si possa garantire anche il tempo pieno, allo stato attuale lo vedo abbastanza difficile. Grazie a tutti.